Arrestato e posto ai domiciliari si era detto pronto a cambiare vita e a cercarsi un lavoro ma il 22enne centroafricano finito in manette tre mesi fa perché ritenuto responsabile di furti e spaccate a negozi e locali del centro, un mestiere se l'era trovato solo per finta, ottenendo dall'autorità giudiziaria il permesso di uscire di casa per recarsi al lavoro presentando documenti falsificati. La polizia che ne ha seguito i movimenti ha accertato ben sette evasioni e lo ha pure denunciato a piede libero per altri quattro furti, tre nel negozio H&M di Corso del Popolo, il 3, 10 e 18 agosto e un altro da Pitta Rosso in Viale della Repubblica una settimana fa. Il 22enne non ha dunque perso il vizio del furto. Questa primavera l'ultimo colpo l'aveva messo a segno all'osteria Dalloro a due passi da Piazza Pio Decimo. La titolare, Maria Rossetto, era all'interno del locale quando il malvivente aveva fatto irruzione. Ho sentito i colpi, ero in magazzino, hanno portato via l'incasso che era pochissimo, 5 euro, dopo hanno portato via il portafoglio che sarebbe stato 50-60 euro, in più i telefoni. Per il ladro seriale il magistrato ha disposto la custodia in carcere, ma quando gli agenti della squadra mobile sono andati a prenderlo, in casa neanche c'era. L'ottava evasione dai domiciliari a riprova della spregiudicatezza che aveva dimostrato anche nel compiere i colpi. Sono corazzosi questi qui, con tutti gli appartamenti, hanno fatto un casino della miseria perché col tombino a sfasciare un vetro di quelli grossi, antiproiettili, antispontamento, hanno fatto anche fatica. Il 22enne si trova ora rinchiuso in carcere a Santa Bona da dove, per il momento, non potrà più compiere le sue incursioni.